Il Presidente dei Ministri adesso passato al Parlamento, un altro dei passi che l'Europa ci chiede per darci soldi, miliardi del PNRR, alcune forse politiche hanno storto il naso per le poche liberalizzazioni, altre invece tipo Forza Italia, la Lega, hanno festeggiato rivendicando dei risultati anche e soprattutto per le concessioni balnearie per gli ambulanti. Ci hanno raggiunto per parlarne, buongiorno, Rosario Trefiletti, Presidente del Centro Consumatori Italia. Io voglio farvi vedere dei dati che secondo me sono più significativi di molte spiegazioni. Partiamo dalle concessioni balneari, quanto costano nel nostro Paese, due concessioni dei magnali marittime su tre pagano meno di 2.500 euro l'anno, quindi si paga poco con le concessioni, in compenso si guadagna moltissimo con gli stabilimenti balneari. Guardate il rapporto tra canoni pagati, 115 milioni e il giro d'affari da 15 miliardi per gli stabilimenti balneari, anche perché in Italia abbiamo anche, senza fare i nomi, però stabilimenti balneari VIP che costano un giorno in spiaggia uno stipendio, lo possiamo vedere da 1.000 euro a 410 euro a 400 euro. Allora, non c'è moralismo in tutto questo, se uno può spendere 1.000 euro per andare un giorno in spiaggia, lo si li spendesse. Il problema è, è giusto che di fronte a canoni così bassi si facciano profitti così alti con quello che appartiene a tutti noi? A me non è giusto neanche che si regalino, diciamo così, i siti che sono del Paese, dei cittadini. Le concessioni in Italia sembrano che siano ab libitum, in eterno. E poi, ma scusa faccio anche una battuta un po' per diciamo alleggerire, ma sono 2.500 anni che si parla di questo problema. Io da quando sono nato che sento la questione delle concessioni balneari, del fatto dell'Europa, del fatto delle gare, del fatto che si paghi 2.500 euro, e poi però si aggiunga anche che in Italia le concessioni balneari e le tariffe sono le più elevate a livello mondiale, non a livello europeo, perché la cosiddetta costa azzurra, uno parla costa azzurra, oddio, chissà quanto costa, no, costa di meno. Allora, io capisco però altre cose, diciamo così, in relazione agli stabilimenti balneari. Loro hanno fatto degli investimenti, bisogna riconoscere. Ma allora, nelle gare, quello che si deve chiedere da parte di imprenditori, che le gare siano eque, che siano giuste, dove c'è il pagamento giusto dell'abito, ma nello stesso tempo, se io ho fatto degli investimenti, ci sia rifondere quegli investimenti in termini adeguati. Queste sono le cose giuste da dire. Non arroccarsi, e poi chiudo, ma non ci sono più spiagge libere, santa pazienza, ne usciranno delle belle con la mappatura, anche se c'è già la mappatura. Ma ne usciranno delle belle. No, però la mappatura...